Salve e benvenuti mi ricomani con fratelli sono Piqui e questo è un nuovo video su downward 2 retribution. Nel suo video sono andati a meridian a risoggiare la rocaforte dei guardie imperiali. Il video ha avuto problemi con l'audio e sembra che l'audio troppo alto era delle voci dei personaggi. Spero adesso che vada tutto bene, ho conosciuto benissimo, ho messo tutto a posto quasi. Se ci sono problemi altri dovrò rifare. Ho fatto la seconda missione, Guglia di Gogotta ed ho sbloccato le arca dei Bansai. Ha liberato Kylith che è liberato tipo Ferocia ed Pieronicromonde quindi 25% di regenazione e destrutto delle unità tutte le altre vicini e 2,5% regenazione dell'energia. Vicini compagni. Ho tolto granata antigravizionale perché non serviva. Ho messo questa. E niente adesso andiamo sul tempo prima, l'arena di Typhoon, Typhoon Primaris. there are no signs of activity at the source whatsoever. Uhhhh. something is not right It is no doubt a trick. Perhaps a diversion or perhaps E' una trappola elaborata. La maggior parte dell'ordine non è la possibilità di un trucco, ma la qualità. Mi aspetterebbe questo di Eldar, ma sicuramente non di umani. Dobbiamo proseguire con la maggior parte di attenzione, allora. Warriors, dovremmo essere alla nostra finestra. Allora, ehm... Ok, interessante. Ok, e... Agile di sfruttare l'edicolo. Ah, ok. Trovo Cdcaires, ok. Questa missione direi di... Non so se portarmi il spettro custode... No, porto Veldron, dai. E' Eleven. Vediamo tutti. Ok, forse è meglio... Forse era meglio che portavo il spettro custode... Il campione del spettro custode, speratemi. Essendo che con lui ho più possibilità. Se lo possiamo dire così. Ok. Ah, sì. Al caro Veldoran ho... Sì, scusami. Mi confondo sempre. Ronan. Penso che il Veldoran non lo gioco più. Cioè... Sono sempre giusto a portare il... Qua c'è qua? Wow. Wow. Un sacrificio sembra. Ok, portiamo avanti. Andiamo sopra. Non c'è niente. Ok. Ok, che succede? Ok, prendi cosa, prendi... Conquista. Conquista! 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 Eeeh... Che succede? perché ci hanno attaccato? Anche noi abbiamo le Banshine, le Banshine, perdonatemi. Eccolo qua. E adesso butta qua. Uh, questo volevo. Tutto qua. Che... Perché ci hanno attaccati? La stessa razza? Per qual motivo? Qual è la loro motivazione? Aspetta che metto tutto via. Allora abbiamo 400, portiamo... Spero no? Sì? Andiamo là. C'è un supporto... No, è... Infanteria. E' strano, perché non mi aspettavo questa aggressività. Ah no, c'è qua sopra. Conquisto quella roba. Ehm... Assurami, io l'ho di formento. Minchia. C'è un calcio boom. Via. Ok. Ehm, quest'anno qua. Dicevo, non mi aspettavo questa... Lavorano per Kairos? Cioè, siamo sicuri di tale cosa? Tanto... Dov'è? Ecco, andiamo ad aumentare il... Corpo a corpo. Non posso. Guarda questa. 400. Cavolo. Un poch... Ah, ecco qua. 300. Se riesco a prendermi... Sì. Sì, mi preso i guardiani. Chi è ci serviranno? Non portiamo... Ok, ecco, perfetto. Ehm, andiamo eh. Andiamo verso l'obiettivo primario che è andata sulla presenza di Aldar che è qui, vicino. Ehm, andiamo... Poi, capisco, attacca. La propria ha mostrato che ci sia la morte. Ma mille di spieglioni di spieglioni di spieglioni di vita. Ehm, anche, come la visione di Kraft World. Stammi assi immediatamente, o accettate la sua morte. Tu dovrebbe essere scontata. Tante propria dovrebbe essere un'unico. Tu sei i dei palmi di Capitale di Blood Ravens, Kairos. Non è vero. Tante le forze sono limitate. Oh ma siamo seri? Ok questa non fa bene il suge. Cioè è incredibile. Ok andiamo avanti. Ah forse ho dimintiuto qualcuno. Ok. Ok. Ok perfetto. Ok perfetto. Ok. Ok. Dove? Ecco qua il signorino che ci mancava. Un altro colpo per cortesia. Un altro colpo. Eh questo volevo. Un altro. E un altro. E un altro. E un altro. Oh. Ecco perchè non... Non poteva distruggere. Dove hai vedere no? Distrugirò. Un altro. Devo qua ammazzarlo. Tu sei troppo forte. Riesci completamente a far fuori. D'altronde. Veldoran. 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 Fai il tuo lavoro sporco. Per un altro. Ok. Fatto il tuo lavoro sporco e torniamo un attimo dall'altra posizione. Veldoran. Andiamo avanti ed... Andiamo avanti di conquistare il più possibile. Perfetto. Conquistiamo nella base. Questa è un year. Qui sta. Qui sta. Qui sta. Eh. E un altro. Un altro. Vardoran. E un altro. E un altro. Questa è quello. E um... Altri per sei. vediamo qui per 6 unica cosa che posso dire c'è una eh Roland matemelo qua e come questo qua ok distrutto uno ci sono i collegamenti e no devo che adesso ok grazie qua uno che sparì grazie ok 200 e non posso uuuuh 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 c'è 100 cosa posso un po' di 100? niente ah un attimo che tiro su non posso non posso ok eeeh e devo risulgere quella parte che metto il mio ehm disattice un'altra la motognetica un attimo contro i liquid perché essendo che ehm c'è il problema ci sono i spettro custodi che sta accadendo un casino eeeh ok si nota la il problema che noi non abbiamo i spettro custodi quindi adesso dobbiamo distruggere uuuuh che cosa distruggerò 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 ancora un pochino eccoci perfetto punta esperienza urla qui sappiamo già come sono ah c'è anche sotto questo eeeh questo ci manca oh le banseri stanno facendo il loro il loro lavoro questo è una cosa ottima ok prendi questo qualcuno distrugge quel ho dimenticato eh si li ho dimenticati qui e anche ronan ok ah qua abbiamo preso tanti uomini credo per un attimo uuuh ce ne possiamo anche un'altra no va beh arriva un altro prisma appunto questo è ok questo allora uno è per le elefanterie l'altra e per i veicoli uuuh che colpo dai questa punti di esperienza vedo no scusami eh no il nostro supporto il vecente che carica non contenta carica testa bassa un attimo i punti i requisiti è conquistato un altro ah ecco dove posso andare ah capì capì questo mi sa che devo andare dall'altra parte guardate mi è venuto con essa qui e ti do su intanto lui e ecco qua subito giustizia di piazza non 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 niente perché stiamo perdendo i qui non allora tornare eh qua c'è niente no no allora torniamo a vedere tipo se posso aumentare se posso aumentare i requisiti così posso andare qua altri eh altri risorse avere altre risorse per aumentare perché non mi fido molto di cosa andrò incontro non sapendo che eh cosa ecco subito subito caricarmi non non interessa niente il support non interessa eh subito andare alla la questione ok andiamo qua gli altri arrivano si ha rivelato chi vederlo ororo ecco questo è perfetto che nemmo tanto e oh piano piano no l'ha distrutto come se distrugge 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 nato qualcuno tu andrai a conquistare qui sia e ti puerai perché se no sei qua merda fino al collo incrementata 80 e abbiamo 1000 quindi possiamo aprire un'altra uh questa è bellezza oh mio dio questo è bellissimo uff supporto pesante no vi ricordo perdonami ne abbiamo uno due ah no torniamo torniamo a noi ok premio energia ricoprire prendiamoci ok e così no vedo dove ah ecco qua vedo e l'eldar qua l'ultima parca che si la parca la banshee è lì quindi andiamo verso giù e vediamo un attimo ah non posso ah no ecco ho solo questo e costa 250 io ho 300 ok ehm cambio un attimo sezione vediamo vediamo un frazzo c'è uh poco amico c'è? ok no 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 per un momento pensavo c'era poco amico e si sparava una doll cioè c'era un nemico davanti tipo cavolo se adesso si spara succede un casino invece no arriviamo si in maggior parte in maggior parte è ferita cioè ferita gravi uh vedi qua mastardo oh ecco qua banshee ok tu cosa vuoi che cioè perdonami andiamo un altro video ok questa qua la questione è grave è ah come chiamo indietro chiamo indietro dove un altro momento? ah ecco di qua non ho ben capito perché si è tornato indietro ma vabbè questo è questo perchè verdona è la? perchè verdona è la? perchè verdona è lì mi domando io pur essendo che verdona è lì verdona è lì non sta comincià bravo a meno prima cosa di utile a meno prima cosa di nell'altro brutto vediamo distruggiamo questo andiamo avanti credo che verdona sia dove si deve un pochino muovere perchè sta esagerando letteralmente non si può comportare in questo momento vedo anche l'altro gruppo che è messo malissimo andremo andiamo con questi qua dai no no quello è pesante allora dobbiamo andare verso l'altra parte cioè si stanno spostando in maniera veloce sono qui? sono qui sono qui sono qui tanto l'altro gruppo è l'altra parte quindi attimo che aumento perfetto oh se vai vai arriva anche lei ok perfetto spero sia veloce perchè il santo cielo ah provo a fare questo qua spara stuocco vediamo se ci arriviamo perchè essendo che loro stanno girando cioè che succede? oh l'autark non si muove e questa cosa non va bene eccola a questo spara lui spara lui ecco perfetto spara spara lui spara lui sparalti spara lui sparalo spara perchè che sapete? Non li vedo. Non li vedo. Non lo vedo. No, non dico che sono morti? No, sono da parte. Sono da parte e manca poco. Spostiamo il signorino. Qui siamo tutti. Ci arriviamo fino a là. Ci arriviamo. Non è che... C'è che... Oh. Voilà. No, no, no. Pian, pian, pian. Uno. Due. E ho perso un gruppo di... Lentamente stiamo arrivando. Lentamente stiamo arrivando. Bello, non per favore fa qua. Cosa abbiamo preso? Ok. Intanto... Sparali, sparali. Santa ce l'ho su di lui di andare. Sì. 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 Uno. Conquista. Conquista. Altri in che... Ma qui dove è Aldor? Sì, è Aldor. Dov'è diamine quella donna? Quella benedetta donna? Eccola qua. Ok. Perfetto. Ed... Dovemmo tornare... Dal... Perfetto. Eh... È unico cosa... È unico che... È unico che... Unico che... Ogni persona andiamo su di lei. Perché... Alla fine non possiamo... Non possiamo... Non possiamo... Che facciamo, cioè... Gli fanno? Guardate! Buon anno per te! Dov'è lei che... No, non posso fare? Oh, ecco, distrutto. Acquisito? Cos'ho acquisito? Ok... Typhon, vediamo cosa succede, cosa c'è... Movimento veloce. È arrivato Ronan, manca Veldoran e... Allora, cosa mi hanno preso? Oh, solo corpo e corpo. Boh, vabbè, vediamo un attimo di mettere... ...sulla Veldoran e su Veldoran. Ah, sì, tenere il fucile... ...direi di andare sul fucile nero. E... ...diamolo sull'armatura perché usiamo noi sempre. All... Uh, c'è anche il perimetro dell'arena. Cosa ultima? Mmm... Bene, fratelli. Da piccoli è tutto. E... Ci sentiamo al prossimo video. Ciao! Ciao!